Ciao ragazzi, ci avete beccato. Noi siamo nelle ucchiene lezioni di stile, oggi con noi la nostra bellissima modella Ada, che vogliamo presentarvi le tendenze di questa modella. Questo è il primo annullo di scivolo per la settimana della moda femminile che sarà a fine febbraio al 23, vi ricordate? Oggi abbiamo preparato un look da sera, proprio da reciclare, questo completo blu elettrico, lo sarà il colore dell'anno, con un trench, visto che è un periodo abbastanza freddo, quindi direi che è ottimo, e giustamente non potrebbero mancare gli accessori, ok? In pandanz.